Casal Grande Padana presenta Ars Razio, il nuovo sistema di pavimento autobosante per interni. Rapido, di facile installazione sicuro, Ars Razio di Casal Grande Padana viene proposto in due diversi spessori. AR30, spessore 27 mm, e AR14, spessore 13,5 mm. AR14 è perfetto per essere installato sul pavimento preesistente, mantenendo le caratteristiche di elevata resistenza tipiche del porcellanato. I 27 mm di spessore rendono AR30 la scelta ottimale per sopportare grandi carichi nella realizzazione di pavimentazioni permanenti o temporanee. Gli elementi vengono posati sul massetto cementizio o su pavimento preesistente, permettendo una posa rapida anche in grandi spazi. Il sistema di collegamento brevettato consente una posa semplice e veloce. Gli elementi possono essere tagliati con precisione e facilmente posati nelle zone perimetrali. E' possibile integrare il cablaggio direttamente negli elementi, grazie a canaline portacavi e scatole elettriche di misure variabili. Grazie ad adattatori in alluminio antiscivolo, è possibile compensare differenti livelli di pavimentazione. Gli elementi possono essere utilizzati per la creazione di podi personalizzati. ARS Razio è un sistema totalmente flessibile. Grazie ad un kit dedicato, è possibile sostituire rapidamente qualsiasi elemento. Il sistema ARS Razio di Casal Grande Padana può sopportare grandi carichi immediatamente subito dopo la posa. Casal Grande Padana offre con il sistema ARS Razio la possibilità di realizzare pavimentazioni flessibili e altamente resistenti in brevissimo tempo.